Buongiorno a tutti e bentornati al TG Post. Oggi lunedì 2 agosto la pagina di cronaca si apre con la nuova tornata di distribuzione dei vaccini ad opera di SDA Express Courier, la 39esima da gennaio ad oggi, che oltrepassa così la soglia delle 15 milioni di dosi consegnate. L'operazione, condotta dalla flotta del Corriere Espresso di Poste Italiane, si è aperta qui stamattina e si concluderà entro domani. Vede impegnati 30 mezzi speciali che porteranno a destinazione 447.300 dosi del composto Moderna per rifornire 17 regioni. Sale così a 15.342.000 il numero totale di dosi consegnate da SDA dall'avvio della campagna nazionale di vaccinazione. Dopo la fine della settimana il bollettino Covid registra intanto 5.321 nuovi casi e un tasso di positività in aumento che raggiunge il 3,1%. Per contenere la diffusione del virus nella sua variante Delta questa settimana il Governo valuterà la limitazione dell'uso dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza solo a chi è in possesso di Green Pass. Sul tavolo anche l'obbligo di vaccinazione per i docenti.